Kivi Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, Alberto Polverosi, ciao buonasera. Ciao buonasera a tutti. Prosegue il viaggio nelle 50 partite delle coppe in Coppa della Fiorentina, le più significative scelte da Alberto Polverosi e supervisionate come sempre dal nostro editore barra direttore Sandro Rialti, che dall'alto controlla e non si dica troppe sciocchezze. Ci guida e ci ispira. Allora, prosegue il nostro viaggio, anche questa Alberto è una puntata dolce amara perché ci sono partite molto belle, partite di grande soddisfazione che conducono la Fiorentina verso un sogno. Io direi come puntata questa è molto dolce, molto dolce. Siccome si sa come va a finire. Esatto, quella successiva o quando saremo a quel punto, non sarà dolce amara, sarà amara e basta anche se parliamo, se no gli ascoltatori non capiscono. Allora, oggi facciamo una puntata un po' diversa rispetto alle altre perché nelle altre puntate facevamo una partita antica e una moderna attuale, insomma, di questi anni, degli anni 2000. Stavolta ci correggiamo in corsa e facciamo in tutto, parliamo di cinque partite, e facciamo le quattro partite che hanno condotto la Fiorentina alla finale, alla prima finale di Coppa dei Campioni di una squadra italiana a Madrid contro il grande Real de Di Stefano. Facciamo i quarti di finale e la semifinale e poi faremo Fiorentina Tottenham, famoso 2-0 con Montella in panchina, una partita gigantesca di Europa League. Io ricordo il coro, batti il Tottenham, batti il Tottenham, batti il Tottenham. Quella fu veramente una grande partita. Una grandissima gara perché la Fiorentina aveva vinto, va bene, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Sì, ora dobbiamo parlare di questi quattro partite. Fammi ricordare intanto i numeri, perché 348 7513933 per mandarci i vostri messaggi via WhatsApp, testuali o vocali, oppure potete anche intervenire allo 055 7711171. Ricordo anche che sul sito di Firenze e Viola ci sono i podcast delle nostre puntate. Guarda, me l'hanno preparato, io sono un po' zuccone, ma ci sto arrivando. Se andate sul sito Firenze e Viola, in basso a destra trovate i podcast delle puntate, ci sono tutti gli audio e anche i video. Ce ne sono tre, ma poi c'è il link per andare a vedere anche le altre puntate. non tanto perché noi siamo belli, anzi, tutt'altro, ma perché Alberto riesce tutte le volte a selezionare alcuni reperti, alcune pagine che vanno la pena essere visti perché sono delle vere e proprie chicche. Detto tutto questo, Alberto, torno da te perché sono quattro partite mica banali quelle che la Fiorentina del 56-57 affronta in Europa. Allora, come ci aveva ricordato David Bini, in questa Coppa dei Campioni ci sono stati dei preliminari, preliminari per sorteggio. La Fiorentina, per fortuna, fu sorteggiata evitando i preliminari e giocò gli ottavi, e ne abbiamo parlato la settimana scorsa, contro il Nocceping, vincendo proprio in Svezia una zero al ritorno e qualificandosi per i quarti di finale. Che poi non era Svezia, ci ricordiamo perché faccia fredda. Si ha ragione, scusa, non era Svezia, era Roma, all'Olimpico di Roma ha ragione, perché era novembre e l'anno subito di bacio a casa. E quarte di finale la Fiorentina trova una squadra che a livello internazionale è molto quotata in quel periodo, trova gli svizzeri del Grasshoppers. Che abbiamo già incontrato. Sì, la Fiorentina li ha incontrati nella Coppa Grasshoppers ed è per questo uno dei primi club che ispirano il calcio europeo. Ora il Grasshopper magari è sceso di livello, ma a quei tempi era una squadra temibile. Quando la Fiorentina va a giocare a Zurigo e vince 3-1, nessuna grande squadra europea aveva mai vinto su quel campo. La Fiorentina domina e la cosa incredibile è che quel 3-1, i primi tre gol, arrivano nei primi 11 minuti. 11 minuti, Fiorentina 3, Grasshoppers 0. E la gente era piena lo stadio perché, come ti dicevo prima, loro credevano. In Italia ancora si faticava, infatti in certi articoli che ho trovato si diceva ma non si capisce perché all'estero ci sia molta attesa, ci sia grande attesa invece... Ecco, vediamo la prima pagina che hai trovato. Quella è la prima pagina del Corriere dello Sport. E la Fiorentina vince 3-1 con il gol di Segato al terzo minuto e la doppietta di Taccola al decimo e all'undicesimo. Quindi 3-0... Taccola tra l'altro sarebbe una riserva se vogliamo... Taccola era una riserva che fece pochissimi gol in campionato, mi pare ci rimase due anni alla Fiorentina e poi invece fece doppietta a Zurigo. Lettamente superato il Grasshoppers da una Fiorentina dei tempi migliori. Ecco il titolo e poi vediamo in tutto maiuscolo il numero di Taccola, autore della doppietta e di Segato, autore del gol d'apertura. Ricordiamo che la Fiorentina il Grasshoppers l'aveva incontrato anche in Coppa Grasshoppers e come sa i nostri radioascoltatori, i nostri fedeli ascoltatori, la Coppa Grasshoppers per una fase si sovrappose alla Coppa dei Campioni perché si disputò allo stesso periodo. Anche in questo periodo qui si sovrappose. Infatti la grandezza della Fiorentina di quel periodo era anche questa, che riuscì a arrivare a vincere la Coppa Grasshoppers con quel famoso 7-2 sullo Schalke 04 e arrivare in finale Coppa dei Campioni dopo aver vinto lo Scudetto e in un campionato in cui arriva seconda. Cioè pensa alla Fiorentina di oggi se facesse questi risultati. Io sarei morto, io non arriverei alla finale che sarei morto prima, insomma è come buona parte dei tifosi da Fiorentina. Però dobbiamo riconoscere che quel periodo lì, metà anni 50, metà anni 60, quel decennio è stato il più grande decennio della storia della Fiorentina che fra un po' farà 100 anni. Ricordiamo Alberto e poi salutiamo anche il Presidente del Museo Fiorentina con noi. La Fiorentina dal 56 al 69, sono 13 anni, vince due Scudetti, fa la finale di Coppa dei Campioni, vince la Coppa delle Coppe, vince qualche Coppa Italia. Va in finale della Coppa delle Coppe. Va in un'altra finale. Quindi diciamo in quei 13 anni c'è, insomma chi ha vissuto la Fiorentina per i 13 anni si è diventata. Poi, e ne parleremo magari, gli anni 70 sono anni disperati la Fiorentina, la Fiorentina povera ma anche sfortunata perché fonda la squadra su dei talenti assoluti. Guerini, Roggi e Antonioni, tutti e tre in nazionale, ventenni in nazionale, caso Guerini e Roggi li perde per sempre perché si fanno malissimo. E anche caso insomma è bersagliato alla sfortuna. Vabbè, allora quella partita, poi sentiamo la partita, dico una cosa solo su quella partita, perché il Correo Sport manda l'inviato che è di Firenze, Tarcisio Del Riccio, e scrive che quella Fiorentina ricorda quella del campionato precedente, come gioco, quella dello Scudetto, e scrive a un certo punto, Iuligno si è staccato da tutti. La classe di questo super campione è ineguagliabile. Quando decide di compiere una prodezza, lo spettacolo diventa entusiasmante. E conclude, giocatori simili, lasciatecelo dire, non si vedono tutti i giorni. Che pensa chi ha visto giocare Iuligno? Tutte le volte ce lo diciamo, insomma, dispiacerebbe perché aver visto Giuligno vorrebbe dire avere un'età molto avanzata, però ce lo siamo persi. Ci consoliamo ogni tanto andando su YouTube a vedere le finte che Giuligno fa il povero pavinato, per far scontare il fatto che gli avesse detto alla gara d'andata tutto qui Giuligno. David Bini, ciao! Buonasera a tutti! Ciao David! Allora, siamo alla prima partita delle famose quattro, della grande striscia che porta la Fiorentina alla finale. È una partita, ho ricordato prima, che la Fiorentina chiude in 11 minuti, tre gol nei primi 11 minuti, cioè entra in campo e spazza via il Grasshoppers, che a quei tempi era una squadra, era un club che a livello internazionale era di livello, cioè non era il Grasshopper di oggi. Assolutamente, la squadra sulla carta era una delle squadre più temibili d'Europa, però la Fiorentina ha un vantaggio perché si affronta il Grasshoppers nella gara casalinga il 6 febbraio del 57. Gli svizzeri vengono da un periodo di un paio di mesi di sosta in attesa della ripresa del campionato, quindi diciamo che non sono atleticamente in grande forma. Ed è proprio il gioco brioso d'attacco della Fiorentina, contrapposto a questa lentezza di manovra degli svizzeri che provano con il Verru, con il capenaccio svizzero a bloccare la squadra nei primi minuti, con scarsissimo successo che determinano un facile inizio di gara per la Fiorentina che poi la percorre in discesa perché i gol sono tre, come abbiamo ricordato, avete ricordato prima, ma la Fiorentina ha almeno un'altra decina di occasioni da gol nettissime. Prende tre pali, una traversa e due pali. Per superficialità durante la gara perché erano in quelle condizioni che si sentivano già superiori all'avversario e non volevano calcare troppo la mano. Leggo la formazione di quella partita che comincia con una curiosità perché c'è Toros in porta, non c'è Giuliano, non c'è Sarti, c'è Toros, poi è Magnini, Cervato, la coppia di Terzini, a centrocampo Scaramucci, Rosetta di cui Del Riccio sul Corrierello Sport parla benissimo, Rosetta e Segato, poi Giulinio, Gratton, Taccola, Montuori e Parodi, che dicono le cronache, fa una partita, ha giocato molto poco Parodi nella Fiorentina, fa una partita onesta. Per il Grassoper segna Ballaman, un attaccante, mi pare nel secondo tempo segna, no, al trentunesimo del primo tempo. Quindi, insomma, è una partita in cui i fiorentini si rivertono perché cominciano a capire che anche a livello internazionale la loro squadra sta andando. E vale, è forte, ecco. Talato, appunto, viola il campo del Grassoper, prima in assoluto. No, questo lo gioca a Firenze. Ah, ti dicevi lei a Firenze. Questo lo gioca a Firenze. La prima lo gioca a Firenze, la seconda, invece, fa 2-2 a Zurigo. Fa 2-2 e segnano, guarda caso, Giulini e Montuori. E il pezzo, il pezzo sempre di Talcino del Riccio inizia così. Applausi scroscianti, ovazioni altissime per la Fiorentina, la grande Fiorentina molto vicina a quella di un anno fa. Quindi anche a Zurigo la squadra, e a Zurigo, se non sbaglio, i spettatori, quello che scrivono, erano 70.000. Cioè, era una roba pazzesca. Io sono stato a Zurigo con la Fiorentina di Trapattoni, la grande notte del tuo amico Edmundo. Mamma mia. E lo stadio, secondo me, poteva contenere al massimo 20.000, 25.000. Non so dove erano questi senzatempi. Probabilmente in un altro stadio, sicuramente. David, parola a te. Sì, no, la partita di ritorno è diversa. Gli svizzeri tentano, spinti anche dalla loro società, dal pubblico di cercare di ribaltare questo risultato, ma non hanno la forza per... Giovanne una partita sicuramente migliore rispetto alla gara d'andata di Firenze. Però non sono in quel momento assolutamente a livello della Fiorentina, che va in vantaggio e poi viene ripresa, poi torna in vantaggio e viene ripresa una seconda volta, ma sostanzialmente la Fiorentina gestisce la gara, perché sta forte del 3-1 dell'andato. Ovviamente sono gare che si giocano su 180 minuti, e quindi cerca di portare a casa la qualificazione senza forzare troppo la mano. Parodi fa la sua buona gara, infatti nelle cronali dell'epoca anche da Nuso Innocenti, abbiamo dei bei commenti sulle prestazioni di Parodi, sperano che questo terzo attaccante alla Rosa possa non far rimpiangere i titolari quando possa essere chiamato lui a sostituirli. Poi in realtà sappiamo che non sarà così semplice, però in Coppa tante volte certi giocatori non hanno poi uno spessore importante nelle gare di campionato e riescano a ritagliarsi uno spazio buono. E Parodi lo fa in questo caso, come lo fa il portiere Toros che ci sava Alberto Prima, perché gioca anche la gara del ritorno, per l'indisposizione ancora di Sati, non è ancora a posto, e anche lui si fa trovare in buone condizioni. Vorrei dire una cosa, se mi permettete, perché forse stiamo andando, cioè, bene Giulinio, forse stiamo andando, scusate, su Montuori stiamo un po' glissando, cioè qui si sta parlando, no, di un altro giocatore di livello no assoluto, di più, cioè, la Fiorentina, Giulinio-Montuori era un po' come giocare con Messi e Cristiano Ronaldo, non lo so del genere qui, perché non ci si rende mica conto. Montuori è stato il primo 10 della Fiorentina, il primo vero grande 10 della Fiorentina, la Fiorentina dei 10 ne ha avuti belli belli, quindi, ma Montuori era un fantasista, era uno, guarda, il gol che fa, che segna, mi pare, Ugliuligno, nasce da una finta di Montuori, quel gol, per cui, i due insieme sono, eppure uno è l'argentino e l'altro è il brasile. Sono devastanti insieme, sono devastanti, perché sono imprendibili, sono imprevedibili per le difese avversarie, che ovviamente giocavano a uomo all'epoca e quindi avevano spesso dei marcatori anche fisicamente più robusti e spesso molto meno veloci e rapidi, quindi la rapidità, l'intuizione e il tempo d'anticipo di Montuori e di Giuligno creano delle situazioni meravigliose per il fronte d'attacco alla Fiorentina, molto meno per chi deve difendere. e pensa che il campo, la mattina era grandinato a Zurigo, il campo era pesantissimo, quindi per i giocatori tecnici giocano... Un po' come Chievo qualche anno dopo, dove Baggio Danziova, lì era una lastra di ghiaccio proprio. E invece loro due dominano la scena, cioè la gente a fine partita, sì, Grasshoppers va fuori, ma la gente applaude la Fiorentina, applaude Giuligno, cioè sono giocatori che veramente... perché sono della Fiorentina, ma se Giuligno avesse giocato nel Real Madrid in quella finale, avrebbe avuto la stessa gloria di Stefano, ma identica, perché erano giocatori fuori da ogni immaginazione. Ricordiamolo ancora una volta, che così forse si capisce meglio. Quando il Brasile vince il suo primo campionato del mondo in Svezia, il mondiale di Pelé Ragazzino, all'ala destra c'è Garrincia, cioè tutti parliamo di Garrincia, no? Garrincia gioca perché Giuligno, unico giocatore che gioca fuori dal Brasile, dice no, non è giusto che per me venga fatta una deroga. Lo scrive a CT. Fate giocare... Mi ricordo di vedere. Il CT decide di convocare solo giocatori che giocano in Brasile, fa solo una deroga per Giuligno, il quale Giuligno dice no, non è giusto, io sto a casa, è giusto che giocano e non ve li giocano in Brasile. E quindi va a Garrincia, perché sennò... cioè, Giuligno era più forte di Garrincia, e Garrincia ancora adesso viene citato come la più grande alla destra di tutti i tempi. No, ma infatti è divertente, è piacevole soffermarsi su questo periodo, perché veramente ti... cioè, hai i fiorentini che l'hanno vissuto, che hanno visto quelle partite, hanno visto quei giocatori. E ora vedranno questi... No, non so se... Siamo agli anni 50, se è passato... Il mio vicino a casa l'ha visto e mi ha detto che preferiva Montuori a Giuligno. Ecco, per esempio, quindi era come quando si diceva, con una scala inferiore, ma Rui Costa è battistuta. A me, come giocatore, come giocatore piaceva più Rui Costa, perché era più... A me e il mondo. A te e il mondo, perché faceva tutte e due le cose. Anche il ballerino al carnevale, va bene. Comunque, ecco, sono due partite che esaltano la Fiorentina. E la gente capisce che... Ma non solo a Firenze, in tutta Italia è una squadra... E ora anche all'estero è una squadra temuta. Non a caso chiedo a David, probabilmente è in quel periodo che in tanti i tifosi da Firenze tifano per la Fiorentina, no? Cioè, tanti tifosi che la Fiorentina guadagna fuori dai confini della città, li guadagna in questo periodo magico. Sì, assolutamente. Sono stati acquistati a cavallo della seconda parte degli anni 50, quando, come abbiamo ricordato, la Fiorentina vince questo spettacolare scudetto nel 55-56, della Fiorentina più bella di sempre. Su questo non ci sono margini di dubbio. Però una squadra che arriva per quattro volte seconda, quindi per altre quattro stagioni, due volte dietro l'Iventus, due volte dietro il Milan, per pochissimo non riesce a vincere altri quattro titoli di campione d'Italia ed è sempre considerata favorita. Sarebbe stata il nuovo grande Torino se ce l'avesse fatto. Avremmo potuto fare esattamente un ciclo come il grande Torino degli anni 40 con la Fiorentina degli anni 50. Quindi è una squadra che raccoglie simpatia, raccoglie entusiasmo dei tifosi quando la vedano giocare in trasferta sul campo anche della squadra di casa perché è una squadra che gioca un bel calcio. All'epoca la qualità del calcio estetica non era spesso altissima. La Fiorentina invece di Bernardini gioca un calcio molto bello, molto appassionante, molto d'attacco, molto brioso e questo ovviamente negli occhi dei ragazzini, dei bambini, vedere i campioni come Giurini, come Montuori, gente che dà del tour veramente al pallone, sono quelle cose che ti entusiasmano, ti danno l'imprinting per rimanere con la Fiorentina nel cuore. Guarda bella. Guardando la foto che hai mandato a te, David, sul video, l'ultimo accosciato a destra guardando lo schermo è proprio Montuori, Michele Montuori che era argentino ma la Fiorentina l'ho preso in Cile, giocavano nell'università della Cattolica ed è stato, io, quelle maglie credo siano fantastici con lo scudettone perché lo scudetto era in pratica uno stemma enorme su quelle maglie insomma cucito sì sì era cucito ovviamente ed è una squadra vabbè ormai l'abbiamo detto e non si è più rivista a Firenze dai nemmeno negli anni d'oro di Cecchigori con tutti quei grandi giocatori impossibile impossibile diciamo che questa è una delle squadre che normalmente si è vista in Italia cioè questa vale le grandi squadre anche dei grandi club il grande Milan la grande Juve l'Inter di Herrera insomma io penso se si trovasse l'Inter di Herrera contro questa Fiorentina insomma non so chi vince è una bella partita è una delle più grandi squadre della storia del campionato italiano c'è poco da fare non c'è dubbio assolutamente assolutamente tra l'altro la foto della formazione si vede sul video adesso è proprio quella della gara di ritorno in Svizzera con il Grasop e una curiosità è che la Fiorentina giocò con la maglia e i calzettoni rossi per esigenze di illuminazione la gara era in notturna e quindi con l'arbitro gli spettatori per evidenziare meglio la differenza fra le due squadre fu chiesto di giocare con la seconda divisa che era rossa quindi la Fiorentina giocò in rosso in Svizzera infatti è il colore poi della nazionale Svizzera altra curiosità infatti dicevano che dopo Fiorentina era partita in casa il timore della Fiorentina era proprio giocare in notturna cioè con i fari sotto la luce dei riflettori e questo disturbava un po' ma evidentemente davvero poco deve aver disturbato insomma ecco te pensi avendo i giorni nostri ho letto la notizia di Unai Emery che dice che l'Aston Villa si deve allenare entro i tre e mezzo e che poi fa buio non c'hanno l'illuminazione e campo allenamento penso un po' è come cambia incredibile l'Aston Villa e così arriviamo alle semifinali le semifinali attenzione quella è un partitone incredibile se sei d'accordo la semifinale era andata e la Fiorentina un po' di fortuna l'ha avuta perché? sicuramente un po' di fortuna ma è anche una gara che insomma è una vera battaglia è una battaglia contro chi? contro la Stella Rossa di Belgrado che era la squadra che poi è stata di Savice di Milano di Prozinevski la squadra che ha vinto la Coppa di Campione a Bari va bene la Champions no Coppa di Campione a Bari e quindi insomma è una squadra poi all'epoca la Jugoslavia era la Jugoslavia non era Croazia Montenegro Serbia Bosnia eccetera eccetera era tutta Jugoslavia quindi i migliori giocavano giocavano nella Stella Rossa perché la Stella Rossa era la squadra leader del resto aveva vinto lo scudetto aveva vinto un campionato della Jugoslavia e ha un po' di fortuna perché già al trentatresimo del primo tempo la Stella Rossa resta in dieci perché si fa male in uno scontro conservato si fa male un certo non so che ruolo avessi tuplac che esce in barella lo portano all'ospedale con una coavozione cerebrale e quindi non rientra più in campo il primo tempo è uno spettacolo ah c'è una cosa curiosa diciamo una cosa sulla Stella Rossa quindi non è molto fortunato alle italiane perché qualche decennio dopo la nebbia di Sacchi bravo bell'aggancio la nebbia di Belgrado la nebbia di Sacchi è stata un bel aiuto sì la Fiorentina ha giocato un bel primo tempo e c'è una nota curiosa di Del Riccio sempre sul Corrierello Sport e dice il DT direttore tecnico della Federcalcio Foni in tribuna stampa siede proprio accanto a noi cioè vede la partita accanto a Del Riccio e lo fa commentare a fine del primo tempo è molto soddisfatto Foni perché la Fiorentina al primo tempo fa una bella una bella partita poi forse siccome già allora si facevano i calcoli lo 0-0 comincia a essere interessante però il pareggio in trasferta su un campo che si chiamava non si chiamava ancora Maracanà si chiamava Armata Rossa cioè quindi gli faceva già un certo effetto giocare su un campo a quella maniera e lì non vanno bene i due campioni così scrive non vanno bene né Montuori né Giuligno e il secondo tempo comincia la Fiorentina comincia a giocare un po' per il pareggio solo che a un certo punto si fa male anche Rubinski al 39 del secondo tempo così la Stella Rossa resta il 9 e la Fiorentina a quel punto ha la possibilità di passare e infatti passa con 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 Prini con Maurillo che segna all'ottantatresimo ed è insomma vincere in trasferta anche se insomma con un po' di vantaggio anzi un po' tanto di vantaggio ti fa pensare che la finale di Madrid possa essere veramente a un passo ci sono arrivati i messaggi sono riuscito finalmente a sbloccare i tablet che io sono negato e c'è Mario da Scandicci e ci dice si ricorda la rete di Segato e lui era bambino e quindi come vedi insomma c'è qualcuno che ha avuto la fortuna di vederli questi campioni di ricordarsi un po' poi pensa negli occhi di un bambino cosa possa essere stato aver visto giocare questa squadra davvero pensa a Segato perché poi noi giustamente soffermiamo su 7 e su 10 su Gioligno e su Montuori ma c'erano Magnini Magni Sarti Magnini Cervato Iappella c'era Rosetta Segato c'era Rosetta infatti era la nazionale era la squadra la squadra più forte e a Belgrado si consolida 60.000 spettatori in quello stadio non lo scherzo si consolida appunto questa nuova legge italiana questa nuova legge viola che in Europa fa paura Davide Sì la gara di Belgrado è una gara molto particolare per la Fiorentina i jugoslavi temevano molto la squadra viola per il percorso che aveva fatto e per la qualità dei giocatori d'attacco ma anche per la qualità del nostro blocco difensivo che rientra Sarti in questa gara e quindi Sarti Magnini Cervato Iappella Orzan Segato sono il blocco dei sei che ha giocato anche il nazionale che costituisce la difesa della Fiorentina ed è vero che loro cercano di attaccare continuamente ma è vero anche la difesa della Fiorentina riesce a coprire benissimo qualunque attacco di Jugoslavia e regge benissimo l'urto e quindi non gli dà la possibilità di andare in vantaggio e poi riusciamo nel finale a segnare ma la Fiorentina gioca una gara molto accorta e molto forte sia a centrocampo in copertura e in fase difesa volevo notare una cosa una bella Fiorentina guardando i titoli di questi giornali come ai bei tempi la Fiorentina a Belgrado cioè questi giornali i titoli finalmente è tornata la Fiorentina che tre mesi prima aveva vinto il campionato noi adesso torneremo grandi ancora come nel 56 e sono passati 70 anni ecco per dire il titolo era anche secondo me riferito un po' all'altalenanza dei risultati in campionato appunto si avevano avuto delle frenate e quindi però appunto la Fiorentina è seconda in classifica sta marciando in Europa ai titoli finalmente abbiamo ritrovato la Fiorentina ma insomma avvenne ecco di problemi come a ritrovarne di mettere il periodo di me è questo e questo voglio dire ma lo dici oggi allora allora era così allora quando quando il grande il grande Milan aveva quello di Berlusconi aveva un piccolo calo in curva già alla sud siccome era Milano quel periodo questo mi ricordo c'era malumore e io dico ma ci fosse a Firenze il malumore per chi la squadra è seconda ecco insomma e quelle c'era malumore insomma c'era un po' di soddisfazione noi ci abbiamo dominato come mai ora siamo secondi secondi non va tanto ecco e purtroppo quando uno si abita al caviale poi dopo fa fatica a mangiare il pane pane olio pane olio magari pane olio guarda sarebbe qualcosa facciamo una pausa teniamo tra poco ricordiamoci che per queste partite c'era un super massaggiatore mio zio Balto Forapullini ciao che meraviglia l'abbiamo l'abbiamo menzionato sì l'abbiamo menzionato il messaggio è arrivato al 3487513963 a me commuove molto Alberto quando pescando un po' a strasci compigliata nella nostra rete della memoria arrivano questi frammenti meravigliosi di parenti, amici che ricordano questi personaggi che hanno fatto la storia della Fiorentina e dunque di Firenze e dopo ora quando parliamo dell'ultima partita di quella famosa quartetto sestetto perché ci dobbiamo mettere anche il Norceping prima del Real Madrid e parleremo anche di Farapullini perché c'è una nota molto curiosa molto bellina allora arriviamo al ritorno di Fiorentina Stella Rossa finisce 0-0 e la Fiorentina si qualifica ma quella è una partita di totale sofferenza allora vi dico solo i nomi dei due portieri in quello della Fiorentina Giuliano Sarti e in quello della Stella Rossa che era assente all'andata Vlavi Mirbeara Vlavi Mirbeara a quei tempi era considerato uno dei più grandi portieri di Europa Yashin Yashin stesso lo riteneva superiore a lui unico portiere a vincere Ponedoro Yashin lo riteneva superiore a lui il suo allenatore che ho visto si chiamava Caliterna una roba del genere lo allenava lanciandogli la pallina da baseball e lo chiamavano il ballerino dalle mani d'acciaio perché si muoveva per tutta la porta un po' come Grobelar ti ricordi Grobelar e in uscita non respingeva mai le prendeva sempre cioè le bloccava sempre e quando oggi i vecchi portieri di un tempo dicono no eh oggi non non i portieri non bloccano più respingono hanno paura all'epoca all'epoca sapevano che bloccare una palla invece di respingerla era il vero aiuto alla squadra perché respingere una palla non sai da che parte va se la blocchi la palla è tua e si riparte da capo ecco c'erano questi due portieri questi due portieri che da soli hanno fatto la storia del calcio europeo e Beara soprattutto all'est perché era un periodo in cui non potevano uscire da e Sarti in Italia in tutta Europa insomma era una squadra nel mondo perché vince l'Inter la compagnia del contestale esatto nel mondo e Beara tanto per dire se faceva il discorso prima della Yugoslavia era croato eccetto ora avrebbe giocato nella Roazia nella nella Dinamo Zagabria nell'Aiduc Spalato e invece giocava nella Stella Rosa di Belgrado ed è il titolo che faceva fatto il Corriere dello Sport era proprio Fiorentina Stella Rosa 0-0 in una partita mozza respiro i Viola e il cadenal c'era questo il sommaretto era questo i Viola in tal modo hanno acquisito il diritto a disputare la finale della più impegnativa competizione internazionale per squadre di società ma quella partita caro David fu veramente una battaglia una partita difficilissima per la Fiorentina sì fu una battaglia difficilissima il Yugoslavia aveva avuto un premio a vincere di 30.000 dinari mi sembra per la gara d'andata e poi fu quasi raddoppiato per la gara di vitorno perché volevano assolutamente che una squadra del blocco e l'est riuscisse ad andare a giocare una finale quindi immaginatevi anche i contorni politici di un'ipotetica della rossa Real Madrid all'epoca insomma era veramente quasi la contrapposizione di due blocchi quindi c'erano delle motivazioni fortissime ma la Fiorentina aveva uno statura forte e dovesse reggere la spinta degli Yugoslavia e cercarono di venire a fare il colpaccio a Firenze e di segnare almeno un gol per rimettere in pari la gara insomma fu una battaglia lo stadio era tutto pieno esaurito si diceva alle 16.30 del pomeriggio c'erano degli ingorghi fuori nicidiali si leggono nelle cronache perché tutti volevano arrivare in tempo allo stadio insomma fu veramente una semifinale epica c'è un nostro amico Davide che al 348 753 933 ricorda una cosa dice nei libri che possiedo sulla strada Fiorentina pare io credo che siano di più che in un amichevole nazionale se non sbaglio entre il Brasile 6 undicesimi della Fiorentina 9 erano 9 in realtà e al nord erano gelosi e mi sembra proprio che fosse Gianni Brera che definì quella presenza di Viola in nazionale il blocco dei brocchi mai più grande mischerata fu detta da un giornalista pur di valore come Brera dice il bomber Viola Brera diciamo non ha sbagliato parecchio insomma l'abatino per quanto riguarda Rivera anche Antonioni non gli voleva bene ma ricordiamo appunto non erano 6 erano 9 i giocatori della Fiorentina che giocarono con Egitto mi pare erano 9 in quella gara citata tra l'altro in questa gara c'ho un articolo anche dell'ECCT Vittorio Pozzo che commenta da giornalista proprio la gara e analizza singolarmente i 10 giocatori su 11 della Fiorentina che avevano fatto parte della Nazionale ed erano in campo in quella gara quindi in quella gara contro la Stella Rosso la Fiorentina aveva 10 giocatori su 11 che avevano fatto parte della Nazionale ricordiamo una cosa che 10 su 11 ma i titolari della Fiorentina erano 9 perché 2 erano Montuori e Giuligno quindi no erano Giuligno Giuligno no ma Montuori gioca in Nazionale perfetto scusate quindi tutti meno Giuligno giocano in Nazionale Giuligno non gioca nel Brasile per il motivo che ci siamo detti insomma questo per dire per la squadra la squadra la squadra di Firenze no mi sono dimenticato una cosa di Beara molto bellina del portiere della Stella Rossa che nel 52 con la Jugoslavia vince l'argento alle Olimpiadi e in una partita fare un rigore a Puskas cioè siamo a livelli tipo Olli e Benji siamo a livelli amostruosi allora per rispondere per commentare il nipote quello che ci ha detto il nipote Farabullini c'è un altro messaggio su Farabullini se vuoi te lo leggo così completiamo e parla della cosiddetta spugna magica di Farabullini e con un colpo di stugno un po' più rimetteva in piedi tutti dice Mario da Scandicci allora dopo Fiorentina Stella Rossa a Firenze il Corriere dello Sport fece anche un pezzo di spogliatoi va bene a firma di Carlo Mione questo pezzo di spogliatoi poi vi leggo altri passaggi perché sono veramente divertenti finisce e dice alla fine del nostro affrettato lavoro siamo tornati da Farabullini che aveva terminato il suo lavoro da un momento tutti bene tranne Iuligno che ha la caviglia destra in disordine ancora come qualche tempo addietro speriamo non sia niente di grave quindi non andavano dal medico andavano da Farabullini per sapere come stavano i giornalisti per sapere come stavano i giocatori e visto che ci sono allora te pensa la responsabilità di Farabullini aveva nelle mani le caviglie di Giulini era come avere un vaso ming per intenderci no per il valore di quelle caviglie è vero e in questo pezzo di spogliatoio c'è una cosa che mi ha colpito curiosissima questo Carlo Mione che doveva essere uno dei collaboratori del Corriere Sport con Tarciso Del Riccio fa un'intervista anche l'arbitro l'arbitro è un olandese ora vado a cercarlo e si chiama Skipper una roba del genere con succo di frutta sì con succo di frutta e lui dice aspetta stavo cercando ah perché cominciano fermo ancora un passaggio prima negli spogliatoi lui comincia penso dicendo burrasca negli spogliatoi di Bianco Rossi Jugoslavia Jugoslavia al termine della partita al termine della partita non volevano perdere in nessun modo Madrid era un dolce miraggio a cui non volevano rinunciare e Beara lui in un'intervista dice era arrabbiatissimo abbiamo tenuto in difesa alle folate brillanti Virgilia eccetera eccetera abbiamo perso però le occasioni più facili peccato perché ci meritavamo di andare in finale e che era il sogno forse più loro che della stessa Fiorentina che comunque aveva già loro andavano all'Occidente vedevano delle cose a Madrid che non avrebbero mai visto magari ce ne stavano pure qualcuno ce ne stava pure ce ne stava pure e non riesco a trovare più il passaggio parla l'arbitro eccolo qua lui dice il collega l'anziano collega io credo il fu collega il fu collega sicuramente dove abbiamo trovato un'insolita accoglienza è stato nello spogliatoio dell'arbitro Schipper l'olandese ha detto che se nel primo tempo la Fiorentina aveva meritato di vincere nella ripresa la Stella Rossa ha pareggiato le sorti non solo ma questo Schipper ha parlato anche dei giocatori ha detto benissimo Giulinio e Orzan e ha detto in Olanda il pubblico è molto diverso meno emotivo ma anche meno sportivo e meno corretto è stata una partita interessantissima con dei giocatori disciplinati se dovessi dare un premio di disciplina lo darei agli italiani forse tutti hanno usato un po' troppo la lingua ma in complesso sono soddisfatto ecco all'epoca si poteva intervistare l'arbitro sulla partita appena giocare qui Davide secondo me c'è diciamo c'è due scuole di pensiero una quella romantica di Polverosi e una un po' più cinica mia cioè questo Mioni è andato a parlare un beara in slavo e con l'arbitro olandese non so in quale idioma ma parlavano inglese ma che inglese se l'hai inventato e nessuno mai sarà andato in inglese ma ti rende un beara parlare inglese ma da buono ma ci sarà stato un interprete ma c'erano gli interpreti anche e beh tu butti lì delle cose tra l'altro per criticare la gente così senza saperlo c'erano sempre in questi casi accompagnavano la squadra proprio dei problemi l'arbitro se ti dice che è diverso il pubblico di olandesi da quello da quello italiano chi ne sa Carlo Mione se è diverso glielo spiegherà l'arbitro glielo dirà in una rigua ora mi piacerebbe trovare un erede di Mione per farlo raccontare questo questo non significa che i giornalisti non abbiano mai inventato niente sia ben chiaro questo questo è fuori è fuori discussion o per l'arbitro dà anche valutazione sui giocatori valutazione sui giocatori ed è interessante è curioso questo fatto che si possa parlare anche con l'arbitro evidentemente non ci sono stati episodi particolari in partita ma insomma ecco era era non parlano la curiosità che non parlano gli allenatori ma lui fa parlare tutti i giocatori e l'arbitro bene vogliamo fare un salto avanti perché siamo quasi alle porte dei sassi ma è stata troppo bella no no perché è stato di Dio infatti come sempre abbiamo dedicato tre quarti della trasmissione al passato remoto e un po' meno al passato recente perché ancora non si sa quanto sia cronaca e quanto storia quello che stiamo raccontando no sì allora no ora abbiamo raccontato non è cronaca ne è storia ma leggenda no questa è epica no io ve lo raccontiamo adesso quello che raccontiamo adesso sì quello che abbiamo raccontato è tipo le neide l'iliade e oggi quando le medie si fece allora di epica ecco è questo esatto ora dobbiamo passiamo a un'altra però a un'altra grande partita certo anche in quella squadra c'erano di grandi giocatori ora abbiamo parlato di Montuore e Giulino e si fatica però nella squadra di cui parliamo c'era un giocatore che si chiama Salah cioè Momo Salah quando venne a Firenze sembrava come si dice a Firenze uno scappato di casa Mourinho non lo faceva giocare nel Chelsea cioè era uno arrivato a Firenze la prima partita si guarda questo giocatore e dice ma ma sarà stato un caso che sarà stato ma ma che dopo la terza partita diventò diventò Salah Salah è diventato a Firenze cioè prima quella è la partita di cui parliamo è Fiorentina Tottenham 2 a 0 con un gol di Mario Gomez e di Salah pensa Mario Gomez fu considerato ha ragione secondo me ha un acquisto clamoroso ti ricordi Davide lo stadio quando lui fu presentato pieno insomma era un acquisto ed era una squadra di di ottimi giocatori guidata da un allenatore ispiratissimo in quel periodo che era Montella Montella insomma era una squadra che che faceva risultato e che giocava giocava bene cioè era una squadra che che creava leggici un po' la formazione della Fiorentina la formazione della Fiorentina era c'erano dei grandi giocatori ma anche allora era Neto in porta 4-3-2-1 era il modulo Neto in porta Richards Savic Basanta e Marco Salonso in difesa a centrocampo Badeli Pizzarro e Mati Fernandez poi entrò Aquilani in attacco Joaquin e poi entrò Pasquala a 5 minuti alla fine Salah e Mario Gomez in panchina c'erano Lezzerini Tomovic Ilicic e Babacara allora non c'era la panchina ancora da 12 giocatori e mi piacerebbe se mi date il permesso leggere siccome le pagelle le aveva fatte Sandro Ciccio Rialti mi piace leggere due o tre passaggi suoi lui dà ovviamente 8 a Salah e scrive è lo Scorpione formidabile giocatore che mette nel ripostiglio dei ricordi anche Quadrado e Quadrado non era stato poco Pochettino che era l'allenatore Pochettino l'allenatore del Tottenham capisce subito che è l'egiziano il vero pericolo Viola lui è bravo a stare nelle pieghe del gioco scatta rapido graffia dopo un contropiede da applausi sbaglia il colpo da KO ma poi segna un gol al veleno appunto da Scorpione e dà 8 anche a Gomez beh certo perché anche lui anche Gomez perché quella partita Montella l'ha imposta in maniera strana solo quella partita cioè noi siamo abituati a vedere la frentina offensiva Montella quella partita l'ha imposta in contropiede perché era in vantaggio aveva fatto una 1 a Londra aveva fatto una 1 a Londra li aspetta e li orpisce il problema è che la prima punta era Mario Gomez Salah contropiedista il probabilmente miglior contropiedista del mondo anche oggi ma Mario Gomez era un attaccante non dico un rigano ma insomma era un attaccante un po' come staticità e infatti Ciccio scrive Gomezotto ma può fare contropiedista lui che non lo è mai stato ieri è stato possibile un grande gol dal grande bomber che è sempre stato il gol europeo di cui aveva bisogno e prima aiuta torna difende ruba qualche pallone è il guerriero che Firenze sogna e invece purtroppo lì lo ha sognato poco perché Gomez poi se ne andò a fine anno io penso soprattutto per l'ingaggio perché quando alla fine di quella stagione si decise di tagliare molto sugli ingaggi e Gomez guadagnava un sacco perché in realtà Davide in quel periodo Gomez iniziò a segnare molto perché segnava in Coppa Italia segnava nelle coppe europee in campionato non segnava perché non giocava mai tant'è che segnava una doppietta Udine la Frentina fece 2 a 2 e al bordo campista di Scagli disse finalmente ha segnato un campionato lui rispose un po' piccato perché oggi mi hanno fatto giocare perché alla Frentina aveva preso anche Cilardino c'era Babacar insomma c'era un po' di affollamento per quel ruolo sì c'era affollamento poi magari le caratteristiche di Gomez erano particolari a volte il gioco della squadra non lo favoriva non gli arrivavano tanti palloni da giocare buoni per quelle che erano le sue capacità realizzative quindi come capita a tanti grandi attaccanti quando il tipo di gioco non ti aiuta ad esprimere le tue caratteristiche a volte pensiamo a quella che è stata la carriera di Luca Toni che per tanti anni prima di esplodere finché non ha trovato Guido Lin che l'ha lanciato con quello schema di gioco particolare e con una squadra che era al suo servizio non aveva realizzato espesso tutte le sue capacità quindi anche Gomez si incontra poi anche dei problemi fisici nell'arco della stagione che non lo fanno essere sempre al 100% e quindi non riesce diciamo a esprimere era arrivato come il giocatore del grande salto di qualità quando è arrivato a Firenze come ricordavo Alberto c'è stata una presentazione eccezionale ed era il grande centravanti diciamo una specie di parallelo per quello che era stato Batistruta all'epoca con il quale si poteva sognare di lottare per il titolo queste erano le premesse diciamocelo chiaramente quando arrivò Gomez poi la storia non è stata questa come a volte succede nello sport e nel calcio però ecco questo era quindi lui aveva delle aspettative altissime guarda nel pezzo del Corriere dello Sport nella partita a un certo punto scrivono gol di Gomez e di Salah e se di Mario c'era da meravigliarsi solo perché non segnava gol così pesanti di Salah continueremo a stupirci in questi anni è un giocatore pazzesco per il quale la Fiorentina non finirà mai di ringraziare Mourinho quindi invece ha finito perché a Giugno andò via però quei sei mesi di Salah a Firenze io francamente non ricordo un giocatore così decisivo cioè Batistuta ok Batistuta Amri che non ho visto giocare quelli i grandi Baggio Baggio ma questo arriva d'improvviso cioè Baggio quando è arrivato a Firenze si sapeva che era un ragazzino ma si sapeva si vedeva in lui qualcosa di questo nessuno lo conosceva nessuno sapeva nulla di Salah era una riserva una delle ultime riserve del Chelsea cioè è arrivato è arrivato e ha sbancato letteralmente sbancato mi ricordo il gol che fece a Reggio Emilia contro il Sassuolo con la finta di Babacar mi pare 3-1 doppietta di Babacar e gol di Salah una roba una roba partita la linea di metà campo ma con che fece a Torino in Coppa Italia o la Juve pazzesco che è partita la nostra metà campo lasciò tutti lì e poi arrivato dopo aver fatto 100 metri forza tirò una sassata all'incroce pari è vero è vero comunque era una squadra sì che dava delle soddisfazioni c'era Badeli che aveva gioca ancora Badeli o Badeli come si pronuncia se no tu mi riprendi sulla pronuncia e il gioco ancora è Cicciudelette 7 in quella partita perché due voti si sono stati tutti altri per forza guarda ti posso dire una cosa Alberto così leggi la formazione di Tottenham perché non è una squadra banale sì c'era c'era Tottenham era 4-2-3-1 c'era Loris della nazionale francese in Porta in difesa c'era Chiriches quello che giocò nel Napoli Fazio quello che giocò nella Roma Vertonghen che gioca ancora e Davis che era un terzio sinistro che a centrocampo c'era Stamboli e Bentaleb mi pare fosse un marocchino vorrei sbagliare i tre di dietro la punta erano Eriksen il primo Eriksen quello che poi è dell'Inter lo famoso Eric Lamela che pure sto dicendo Chadli al posto di Chadli al 18 del secondo tempo entrò Kane e poi l'attaccante era Soldato che l'allenatore Pochettino era argentino Soldato graziò la Fiorentina con un gol che si mangiò davanti davanti al Neto Neto praticamente gli passò il pallone Neto ricordiamo che rientrò in porta al posto di Tatarusano perché Tatarusano aveva preso il posto di Neto e aveva rifiutato di rinnovare il contratto e rientrò tra i pali della Fiorentina se non sbaglio proprio in occasione della partita del Tottenham e molti insomma avevano paura che come dire Neto fosse un po' distratto visto che sostanzialmente si sapeva se ne sarebbe andato se ne sarebbe andato e che tra virgolette era stato punito perché era stato messo in panchina invece fece una grande gara e Neto fu importante era un bel portiere era un bel portiere ha sbagliato solo andare a fare il vice Buffon perché se vai a fare il vice Buffon difficilmente tu giochi ecco però quelle sono le scelte esatto poi ha fatto il vice a Barcellona vabbè c'è un altro giocatore magari vogliamo ricordare perché non è stato tanto celebrato è Basanta forse ci siamo anche dimenticati che è un giocatore David che la Fiorentina pescò in Messico un difensore argentino anche un po' là con l'età perché era trentenne e forse anche un po' di più che però fu decisivo non solo perché in questa difesa a tre si completava benissimo con Gonzalo e Savic ma anche perché all'andata fece il gol dell'1-1 fu un gol molto pesante indirizzò poi la qualificazione sì è un giocatore molto bravo tatticamente un difensore affidabilissimo sulla parte difensiva però molto bravo anche a spingersi in avanti su colpi di testa con 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 grande possibilità poi di realizzare i gol qualche gol l'ha fatto alcuni come hai citato di questo ma anche qualcun altro quindi è un giocatore ha dato un contributo importante nell'assetto difensivo della squadra e nel risultato volevo tornare un attimo su Salah perché volevo spendere anche io due parole ovviamente sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Alberto perché anche nella mia tutti gli anni di mia modesta esperienza nel seguire la Fiorentina non ho mai visto nessuno che in un tempo così breve come sei mesi abbia lasciato una scia così importante come quella di Salah che è stata ve ne dico un altro e così ci mettiamo tutti a piangere Pepito Rossi che ha fatto sei mesi prima dell'infortunio strepitoso sono d'accordo Pepito Rossi mi piace moltissimo anche come persona però non lo posso paragonare come come continuità nei sei mesi sì perché si fece male a quello che ha fatto a 12 gol in 17 partite però la sua storia continuò con l'infortunio invece Salah lo vedessi lo vedessi sei mesi poi via ma quei sei mesi ancora oggi come dice Davide in questi mesi ha totalmente cambiato il volto è un po' tipo la carrozza di Cenerentola per intenderci a mezzanotte ci ha bacinato un po' e poi a mezzanotte si è ritrasformato in zucca cioè ci siamo trovati senza Salah che è andato alla Roma e poi insomma il calcio è strano perché la Roma l'ha dato via per prendere il giocatore quello dalla Sampdoria come si chiama quello ora mi viene in mente insomma se non te lo ricordi quello che andò alla Juve non passò le visi medie lo presero loro ora giocava a Salisburgo mi sembra dove gioca insomma comunque fecero un cambio diciamo la Roma l'ha un po' svenduto sarà perché no l'ha venduto a 30 40 milioni è un giocatore che da 10 anni è uno dei primi 5 giocatori del mondo sì sicuramente è uno che sempre entrato nelle classifiche del pallone d'oro uno insegna sempre uno insegna sempre Salah vado a vedere io credo abbia fatto già più di 200 gol vado a vedere per curiosità solo per curiosità quanti gol ha fatto Salah in carriera sì poi non è che l'ha fatto in un campionato banale l'ha fatto in Premier League ecco e ricordiamo anche già che ci siamo che in una finale Coppa dei Campioni il Liverpool la perde perché Real Madrid mette fuori uso fuori combattimento immediatamente sarà con un fallo diciamo ai limiti del regolamento da parte di Sergio Ramos se lo ricordo male ho detto più di 200 ho detto non ho detto i due terzi perché ne ha fatti 294 in carriera che va per 300 va per 300 bene siamo arrivati alla fine amici miei Davide grazie mille a venerdì prossimo grazie a tutti a venerdì prossimo ciao Davide a venerdì prossimo partita monografica sarà una cosa molto speciale insomma non potete non potete mancare perché sarà amara ma anche dolce perché la finale Coppa dei Campioni ragazzi è comunque no la finale Coppa dei Campioni è fra due la prossima è vera sono sorpresone sono sorpresone ha ragione la puntata sorpresa veramente ci giochiamo il jolly ci giochiamo il jolly voi rimanete sempre qui su Radio Firenze Viola ciao a tutti e buona serata